e che cos'è la tua venuta o signore se non un'ascesa attraverso i passi infiniti della tua contemplazione poiché tu arrivi sempre all'intelletto di quelli che ti cercano e ti trovano tu sei sempre cercato da loro e sei trovato sempre e non sei trovato sempre certo sei trovato nelle tue manifestazioni mediante le quali in tanti modi incontri le menti di coloro che ti capiscono nella misura in cui tu stesso permetti loro di capire non tanto quello che sei ma quello che non sei e che sei non sei trovato però nella tua super essenza attraverso la quale sopravanzi ogni intelletto